il mondo. Allora accogliamola con uno straordinario applauso, signori e signori, Anna Calemme. Buonasera a tutti, buonasera Diego Sanchez, buonasera Piazza Stupenda, buonasera Casavecchie, dalla vostra Anna Calemme. Beh, cosa dirvi, è veramente emozionante Diego essere qui questa sera perché devi sapere che io sono praticamente quasi montese d'adozione. Ah, vedi, giochi in casa. Gioco in casa, è vero. E allora io vorrei, faceste ancora una volta un grandissimo applauso, innanzitutto a Diego Sanchez, per domani sera. Sulla fiducia, ma una fiducia ben riposta, ti posso assicurare io, ve lo posso assicurare io. E poi a Tonino Scotto che ha aperto veramente come si suol dire alla grande questa manifestazione. Ecco, come potete leggere qui alle mie spalle proprio festa di Sant'Antonio, prima edizione. Una edizione veramente molto particolare, molto bella anche perché volevo fare i complimenti. È la prima volta che vedo questa piazza così addobbata a festa, con queste splendide luminarie e a questo punto mi tocca fare proprio dei ringraziamenti. Allora io ti lascio i tuoi ringraziamenti, in modo che puoi continuare e io do di nuovo l'appuntamento a domani sera. A voi tutti, buon divertimento. Anacalemo. Grazie. Grazie. Parlo di un bacio. Vabbè, questo è il bacio che con l'immaginazione vi do a tutti quanti voi perché vi voglio ringraziare per essere state qui, in questa bella festa, in questa bella piazza di Sant'Antonio e perché? Perché posso diventare sempre una festa più bella. E allora io ti voglio ringraziare per voi. 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 E io vorrei dormire, io vorrei dormire E io vorrei dormire, io vorrei dormire Bene, il compito della madrina finisce qua per questa sera Ci rivedremo sicuramente in sette mesi per stare ancora un pochino insieme E a questo punto verrà